Voluta dal principe Manfredi è una tradizione che continua nel corso dei secoli. Dal 17 al 25 settembre a Salerno torna l'antica fiera di San Matteo. Artigianato, antiquariato, collezionismo, gastronomia, prodotti tipici ed esposizioni aziendali nella sottopiazza della Concordia. Questa mattina la presentazione al comune di Salerno con l'assessore al commercio Dario Loffredo. Ci saranno oltre di bellissime giostre per i bambini, giostre per i più grandi, gli stands gastronomici non solo della nostra città ma anche da tutta la provincia perché sono tanti che vogliono venire in questo periodo. Ci sarà un bellissimo spettacolo di gabarit gratuito e ingresso libero sul nostro lungomare con Angelo Di Gennaro e ci sarà una serata dove uno chef dal vivo preparerà la matriciana il cui incasso sarà devoluto totalmente in beneficenza. Dobbiamo dire che nella festa del Santo Paterono deve essere non solo un movimento di sana festa in cui le famiglie possono scendere con i bimbi e godersi il nostro splendido lungomare ma anche un momento di preghiera in cui chiedo a tutti i concittadini di fare una preghiera per i nostri cari che non ci sono, per le nostre famiglie, al nostro Santo Patrono.